Regolamento del Consiglio Comunale, lei ha voluto una sospensione, perché? Beh, per la verità l'ha voluto tutto il Consiglio Comunale su mia proposta, alla luce del fatto che praticamente è stata istituita una commissione di regolamento, cioè composta da tutta la rappresentanza dei gruppi consulati del Consiglio Comunale, affinché si discutesse ogni proposta di emendamento, e questo perché ci siamo accorti che in Consiglio erano stati portati degli emendamenti che non riguardavano direttamente le proposte di modifiche portate oggi al tavolo del Consiglio Comunale. Si è trattato sostanzialmente più di un problema procedurale che nel merito, anche perché devo dire che su questi argomenti io personalmente, ma anche il mio gruppo, aveva voglia di intervenire e di discutere, perché molti di questi erano certamente interessanti e importanti, e lo saranno non appena passeranno al vaglio della commissione regolamenti e ritorneranno in Consiglio. E allora ora quale sarà la procedura? Adesso la procedura è questa, questi emendamenti proposti che non fanno parte della proposta di delibera che era già stata portata in Consiglio Comunale saranno ridiscussi in commissione a regolamento, emesso il parere della commissione a regolamento torneranno in Consiglio Comunale, e a quel punto potranno essere oggetto solo di sub-emendamenti, cioè in buona sostanza si limiterà l'oggetto per discutere, la procedura sarà salva perché fatta in maniera regolare, e a questo punto il Consiglio Comunale potrà discutere definitivamente, serenamente su quelle che sono praticamente la regolamentazione dei suoi lavori. A regolamento del Consiglio Comunale c'è stata una sospensiva perché gli emendamenti andavano oltre i temi trattati nella commissione? Sì, in effetti è successo proprio questo. Dopo la proposta appunto del consigliere Ruisi ci siamo trovati d'accordo a dover ritrattare e ridiscutere questi emendamenti nella commissione a regolamento che è la sede giusta per andarli a ridiscutere e portarli poi così in Consiglio Comunale. E questo è anche un motivo comunque per restaurare un dialogo con la minoranza? Sicuramente perché diciamo come è successo in commissione per il regolamento noi diciamo sicuramente abbiamo votato delle proposte che sono partite dalla minoranza per cui diciamo dal nostro punto di vista c'è una massima apertura e anche questa sera lo abbiamo diciamo dimostrato consentendo diciamo alla richiesta del consigliere Ruisi di poter rivedere questi emendamenti insieme e poter trovare così eventualmente un punto d'accordo tra minoranza ed opposizione.